L'espresso è il prodotto, dice una bravissima giornalista del Corriere della Sera, è il prodotto della povertà e della fantasia italiana. Della povertà, perché in effetti siamo poveri, abbiamo spremuto la nostra fantasia e siamo riusciti a fare un caffè buonissimo utilizzando 7 grammi di caffè con l'espresso quando tutto il mondo impiegava 12 grammi per fare il caffè filtro. 80 anni di caffè a Como. Tutto partì nel 1937 da un piccolo bar in città, il Venezuela, per arrivare oggi, miliardi di chicchi dopo, a una grande torrefazione automatizzata e ipermoderna a Lipomo. È il cammino della Caffè Milani. Al pari di aziende storiche come Chico e Ratti, la Milani ha scritto Pagine dell'Industria Comasca. La torrefazione, nella quale è recentemente entrata Elisabetta, terza generazione di imprenditori, è guidata oggi da Pierluigi, figlio del fondatore Celestino. Compiamo 80 anni quest'anno. Se io penso che sono entrato quando l'azienda non aveva ancora 30 anni di attività, mi vengono le vertigini. Per quanto mi riguarda, comunque, io sono venuto a Lipomo, mi sono trasferito da Como, da Via Vitani a Lipomo, dove attualmente c'è ancora la sede. Intorno al 1970, a ottobre del 70, abbiamo iniziato l'attività. Attraverso poi una serie di continue ristrutturazioni siamo arrivati, esattamente tre, siamo arrivati a oggi. Questa rappresenta la configurazione finale. Milani ha organizzato oggi un tour guidato nella fabbrica e una degustazione, con l'obiettivo di diffondere e divulgare la cultura del caffè. La tazzina che consumiamo in fretta al bar o sul tavolo della cucina è frutto di un'attenta ricerca di ricette, miscele, di una scelta di chicchi e di processi di tostatura. Un percorso complesso, dal quale nasce una bevanda complessa, ricca, che regala un'esperienza di profumi e sapori. A mio avviso, il caffè si deve giudicare principalmente dal profumo e dall'aroma, e poi anche dal gusto. Il gusto deve essere un gusto non forte, un gusto morbido, molto delicato. Queste per me sono le caratteristiche principali del caffè.